L'accordo che seguiamo oggi con l'Unione Industriale è un accordo fortemente voluto, un accordo di collaborazione che permette di promuovere e agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese. Agevolare l'accesso al credito ma non solo, perché poi c'è un elemento fortemente innovativo che è un elemento relazionale. Banca Garige metterà a disposizione delle societate dell'Unione, a prescindere dal fatto che questi siano clienti o meno dell'istituto, un consulente finanziario dedicato che possa accompagnare l'azienda nell'analisi di quelle che sono le tematiche finanziarie del caso. Ecco, tanti sono preoccupati, dicono che Banca Garige c'è rischio anche per risparmiatori e così o no? Assolutamente no. Purtroppo Banca Garige è stata associata dagli ordini di stampa ad altri istituti che hanno avuto difficoltà obiettivamente. Banca Garige ha dei recio patrimoniali di primissimo livello che sono stati recentemente evidenziati da BCE. Banca Garige sta percorrendo un piano industriale che la porterà a tornare a essere un'eccellenza territoriale e ad essere la banca di riferimento per un territorio importante per Banca Garige. Banca Garige ritengo che sia una risorsa per il territorio, almeno quanto il territorio è una risorsa per l'istituto.